Crolla la fiducia per il mondo delle imprese e Biella si attesta come provincia peggiore del Piemonte, meno 23%. A dirlo è l'indagine sulla congiuntura promossa da Confindustria Piemonte. Rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre di quest'anno, si registra il peggioramento di tutti gli indicatori. L'occupazione scende al 2%, la produzione locale meno 23,8%, ordini meno 27%, redditività meno 11%. A commentare questa situazione è il vicepresidente dell'UIB Paolo Barberis Canonico. Le previsioni pessimistiche degli imprenditori biellesi, ha detto, riflettono i sentimenti generali di prudenza a fronte di un rallentamento dell'economia e dell'aumento dell'incertezza. Mi riferisco in particolare alla contrazione della produzione in Germania e in Francia, a una ripresa della Cina al di sotto delle aspettative. Ancora, aggiunge il presidente UIB, ad una debole domanda interna ed esterna si aggiungono altre variabili altamente complesse, come l'inflazione, il calo del potere d'acquisto, l'innalzamento dei prezzi e più in generale l'instabilità geopolitica determinata dai conflitti in corso. E a fronte di prospettive così incerte, le imprese cercano di rispondere con un atteggiamento positivo che comunque guarda alle prossime sfide. Digitalizzazione, internazionalizzazione, transizione ecologica. E su questi temi il supporto all'industria 5.0 è fondamentale.